Ben trovati in una nuova edizione del Tg6 la settimana. Iniziamo a vedere le notizie di maggior rilievo a partire dal lunedì. L'attività investigativa di Carabinieri e Guardia di Finanza ha sgominato l'attività di una banda operante nel Vastese e dedita a spaccio e distorsione. 20 sono le misure eseguite dai militari. Vediamo il servizio. Un traffico di ingenti quantità di stupefacenti e correlate attività estorsive nel Vastese sono al centro dell'operazione Blue Marine, risultato di tre anni di indagini condotte dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Chieti. Dalle prime ore di questa mattina, 150 tra carabinieri e finanzieri dei comandi provinciali, con la collaborazione di militari dei corpi speciali delle unità cinofile e con l'ausilio di elicotteri in multifunzione, hanno dato esecuzione a 20 ordinanze di custodia cautelare. L'organizzazione criminale, composta prevalentemente da albanesi, operava nell'area di Vasto, San Salvo e nel nord della costa molisana. Si rifornivano di stupefacenti sulla piazza calabrese attraverso l'endrine di Vibo Valencia, ma anche in Emilia Romagna, Puglia e Abruzzo. Lo stupefacente veniva distribuito da individui di nazionalità albanese, ma anche italiana. L'associazione criminale gestiva poi numerose attività commerciali, formalmente lecite, ma di fatto finanziate dagli introiti, provento del traffico di stupefacenti, bar, negozi, concessionarie e sale gioche che consentivano il riciclaggio di denaro. Le investigazioni si sono concentrate sulle frequentazioni e le dinamiche che si svolgevano intorno al bar Blue Marine 3 di San Salvo, da cui il nome dell'operazione. Questo esercizio commerciale era la base operativa e sostanzialmente la cabina di regia del sodalizio criminale ed è per questo che oggi ne è stato disposto il sequestro preventivo. C'erano poi le estorsioni nei confronti dei proprietari di locali notturni della costa meridionale abruzzese e dell'Alto Molise. L'uso di armi e materiale esplodente per intimidire si configurano come metodi mafiosi. Attentati incendiari e danneggiamenti messi a segno da fazioni che si contendevano l'esclusiva per la gestione del servizio di sicurezza nei locali notturni abruzzesi e molisani. Sono stati ritrovati resti umani di centinaia di defunti in due locali murati del cimitero dei Colli a Pescara. Il ritrovamento è avvenuto nel corso dei lavori di ampliamento dei loculi nel Camposanto di Pescara. Vediamo. Circa 250 cassette di zinco e 50 sacchi di plastica contenenti resti di ossa umane sono state rinvenute all'interno di una stanza nel cimitero di Colle Madonna a Pescara. I ritrovamenti sono stati fatti durante i lavori di consolidamento di una zona ormai da tempo a rischio crollo. La società ambiente a cui è affidata la gestione dei cimiteri ha subito provveduto ad informare il sindaco, il quale a sua volta ha girato la comunicazione sia alla ASL che alla procura. Da una prima indagine, grazie anche all'aiuto di targhette stampate sulle cassettine, è probabile che i resti riguarderebbero persone decedute tra fine anni 60 e inizi anni 70 e ridotte in ossa dopo dieci anni come da regolamento. Proprio nei primi anni 80 il cimitero di Colle Madonna fu oggetto di intervento per la realizzazione di un campo di inumazione e nel preparare proprio questo campo furono rimosse delle salme. Questa resta sempre un'ipotesi, dicono d'ambiente, per cui sapere cosa sia accaduto resta per adesso decisamente un mistero anche perché sarà complicato risalire a chi in quegli anni abbia realizzato i lavori. Il numero di queste cassettine ritrovate potrebbe crescere, dato che in programma c'è il censimento di un secondo locale e da una prima stima potrebbe essere in totale circa 400 le cassettine di zingo rinvenute. Ora, come conferma anche Massimo Del Bianco dalla Società Ambiente, si dovrà attendere la relazione della ASL prima di prendere provvedimenti. Per esempio la ASL già è andata a fare un primo sopralluogo, ci tornerà domani, presumiamo che poi farà una relazione alla procura della Repubblica, la procura poi farà le sue valutazioni. Noi ovviamente dovremo attendere le valutazioni di queste istituzioni e quindi poi ci adegueremo sulla base di quello che decideranno. Il Partito Democratico chiede un consiglio comunale straordinario per affrontare le criticità che ormai da tempo riguardano il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Vediamo. Carenza di personale, pazienti parcheggiati in corsia in attesa di essere ricoverati in reparto e il pronto soccorso costretto a chiudere per far fronte al flusso di persone che necessitano di assistenza provenienti dall'intera area metropolitana. Occorrono provvedimenti urgenti, sostiene il Partito Democratico di Pescara, che ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario. C'è purtroppo una lunghissima attesa che non viene smaltita. È successo due volte nel giro di poche settimane che addirittura chiudesse il pronto soccorso perché non riusciva a smaltire l'arretrato. Diciamo che essendo il pronto soccorso più importante ad Abruzzo e uno dei più frequentati d'Italia, in qualche modo ci deve essere uno scatto di reni. Quindi come centro-sinistra del consiglio comunale abbiamo chiesto questo consiglio comunale aperto, straordinario. Il personale sanitario del pronto soccorso non solo si occupa di emergenza, ma si occupa anche di degenza perché ormai sono 40-50 persone che vengono ricoverate qui, su Barelle. Ci stanno anche 4-5 giorni, come da varie denunce, che abbiamo acquisito, senza distanziamento e senza che nel pronto soccorso ci siano gli strumenti presenti invece all'interno dei reparti. C'è anche una questione di competenze tra Regione, Asl, Comune di Pescara. Chi può sbloccare la situazione? Intanto io credo che è molto utile discutere in un consiglio comunale, con un consiglio comunale straordinario aperto, dove tutti possono intervenire e tutti possono apportare le proprie motivazioni, ma anche le proprie proposte. Dopo questo consiglio comunale straordinario invece si deve prendere con maturità la palla al balzo e bisogna creare un nuovo modello di gestione. Non c'è un triage avanzato, non c'è un turnover dei posti letti, non c'è un sistema informatico che ci dica quanti posti ci sono all'interno di ciascun reparto in quel dato momento e in quella precisa ora. Il che salvaguarda delle rendite di posizione per i ricoveri in elezione, ma mette in grande difficoltà il personale del pronto soccorso. Gli ex eroi, quelli che hanno affrontato l'emergenza all'inizio e continuano ad affrontarla ancora oggi, purtroppo fuori da qui non sono considerati tali, all'interno dell'ospedale non sono eroi quelli del pronto soccorso perché a loro spesso viene riattaccato il telefono in faccia, sia quando cercano posti letto all'interno dei reparti, sia quando cercano un nuovo modello organizzativo del pronto soccorso. La senatrice a vita Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Roseto degli Abruzzi. L'annuncio è arrivato giovedì scorso, nel giorno della memoria. La sopravvissuta alla Shoah ha subito risposto all'invito dell'administrazione comunale. Vediamo. La senatrice a vita Liliana Segre sarà presto rosetana. La giunta comunale di Roseto degli Abruzzi ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla superstite dell'olocausto. L'annuncio arriva nel giorno della memoria, la ricorrenza di quando, nel 1945, l'armata rossa liberò gli internati nel campo di concentramento di Auschwitz. L'aggiunta ieri ha deliberato l'intenzione di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Adesso il Consiglio Comunale, nella prossima seduta, formalmente delibererà. Sicuramente mi auguro all'unanimità. E la risposta della Segre, nominata senatrice a vita dal capo dello Stato uscente Mattarella, non si è fatta attendere. Spero di poter partecipare alla cerimonia, ha detto l'onorevole. Abbiamo avuto una risposta dalla sua segreteria. La senatrice si è detta lieta di questa onoreficenza, che è la forma più alta che la nostra città può esprimere per dimostrare gratitudine, stima, riconoscenza nei confronti di quello che lei rappresenta. Si è detta, appunto, compatibilmente con il suo stato di salute e con altri impegni istituzionali, disponibile anche a partecipare alla celebrazione che ci sarà magari per la consegna della Rosa d'Oro, che è il simbolo della nostra città. Roseto ha deciso di celebrare il giorno della memoria proprio con le parole della senatrice. I libri della Segre, insieme ad altri, saranno donati a scuole e biblioteche. Il racconto delle leggi razziali, dello sterminio e della guerra, pesa ancora come un macigno sulla coscienza di coloro che rimasero in silenzio. Proprio le parole della Segre, quest'oggi nella biblioteca comunale di Roseto, sono state rimarcate da una performance artistica. Mi ricordo che non potevamo più ascoltare la radio, dovevamo chiedere il permesso per fare tutto. Due artisti che ringraziamo, che faranno un intermezzo musicale e poetico, una lettura di alcuni passi della Segre, quindi Corradi e Sasà ci rallegreranno con la loro opera e in più una bellissima iniziativa di acquisto di libri su tutto il territorio. Andranno nelle cassette a Roseto e nelle frazioni, quindi saranno disponibili alla cittadinanza e in più verranno regalate alle scuole, quindi le scuole medie e le scuole superiori, quindi a rimpinguare un po' le loro biblioteche scolastiche e in più qui nella biblioteca comunale, che dovrà tornare a essere il centro culturale di Roseto. Era difficile essere dei cittadini di Segre. In una zona frigida come la nostra, la solitudine si faceva tangibile per dentro loro che finora erano stati amici, allontanarsi dal mondo. Dopo Liliana Segre, la città di Pescara conferisce la cittadinanza onoraria alla giornalista ebraica Lisa Billing, che racconta come in pochi a Pescara erano consapevoli che la cattedrale sorge sulla vestigia di un'antica sinagoga. Vediamo. Conferita all'unanimità da parte del Consiglio Comunale di Pescara, la cittadinanza onoraria a Lisa Billing Palmieri, nata a Vienna da famiglia ebraica, arriva in Italia nel 1961, dal 2005, rappresentante presso la Santa Sede dell'American Jewish Committee. Nel corso degli anni ha raccolto preziose testimonianze sulla Shoah direttamente dai sopravvissuti alla deportazione, su cui oggi ha tenuto la relazione dal titolo Dialogando sulla memoria, inviando un messaggio soprattutto ai più giovani. Io oggi mi sento onorata e promossa. Sono quasi quattro anni che ti ricordo nel cuore. Essere accettata come uno di voi, anzi come una cittadina onorale, vuol dire che abbiamo stabilito un pancio di vera conoscenza. Un percorso avviato sin dal 2019 con la prima adesione del Comune di Pescara alla Giornata Europea della Cultura Ebraica, primo comune in tutta la storia di Abruzzo, di aderire a questo importante evento internazionale. È un ponte verso il futuro che trae energie e ragioni sempre nuove verso il passato. Non a caso l'evento di oggi vede in controluce il protagonismo dell'infanzia, dei bambini, il Museo della Memoria Giocosa, il pediatra David Korn. Quello che è successo a Campiglio Marittimo, vicino Livorno, questa aggressione a un bambino, è un terribile monito su come la memoria, se dimenticata, pregiudica le ragioni del futuro. Ancora una volta Pescara protagonista sulla scena nazionale per le iniziative legate a una data significativa nel mondo, perciò che ha rappresentato la liberazione del Lager di Auschwitz, il dramma epocale della Shoah. La città deliatica è stata la prima in Abruzzo e tra le prime in Italia ad aderire alla giornata europea della cultura ebraica e chi ha già segnato le cittadinanze onorari alla senatrice Segre, all'unione delle comunità ebraiche, alla brigata ebraica e alle vittime e ai sopravvissuti dell'Olocausto. Come ogni anno, è stata deposta una corona di alloro alla base della lapide dedicata alle vittime della Shoah. Abbiamo voluto consegnare questo riconoscimento a Lisa per la sua opera incessante a favore del ricordo, della memoria di quella tragedia chiamata Shoah. Questa collaborazione che è iniziata nel 2019 e che oggi compie un significativo passo con il conferimento della cittadinanza onoraria che il Consiglio Comunale all'unanimità ha voluto conferire a Lisa Billig. È un passo significativo, importante per la nostra comunità in una giornata particolare che è quella del 27 gennaio. Udienza a ranghi ridotti, quella al Tribunale per un nuovo aggiornamento del processo Rigopiano. I familiari hanno presentato una memoria per far sì che non venga tralasciato nulla durante la realizzazione della prova perizia che sarà discussa il prossimo 29 aprile. Vediamo. A distanza di tre mesi tornano in aula i parenti delle vittime di Rigopiano. Lo hanno fatto mettendo agli atti una memoria a supporto del lavoro che stanno svolgendo i periti incaricati dal GUP. In questa memoria spiegano dal Comitato la volontà non secondaria e quella di capire il contesto in cui si è consumata la tragedia. Infatti il punto 6 punta a verificare l'operatività del sistema di prevenzione rischi e di gestione dell'emergenza meteorologica oltre alla mancata attivazione dell'ANAS. Apprendiamo sicuramente l'invio di tre mesi è devastante per noi che attendiamo ormai da cinque anni però abbiamo capito ed è importante questi tre mesi per loro per lavorare al meglio e confidiamo veramente nei periti. Alcuni familiari hanno riportato l'esempio della regione Marche che in quei giorni chiese mezzi all'Abruzzo per far fronte all'emergenza per sbloccare alcuni comuni colpiti dal terremoto. Quello che non ha fatto l'Abruzzo purtroppo perché non ha convocato l'ANAS e l'ANAS non ha messo in gambo non essendo convocata non ha messo in gambo tutte le sue attrezzature. Se queste memorie dovessero essere comunque verificate e accettate anche dal GUP si potrebbe aprire un nuovo capitolo di questo processo Rigopiano? Sì sì sicuramente sicuramente perché qui ogni istituzione si deve assumere la propria responsabilità perché tutti non hanno fatto ciò che dovevano fare. L'udienza di stamani è servita sostanzialmente a rendere ufficiale la proroga di 90 giorni 30 ne aveva chiesti il procuratore Bellelli concessa agli esperti che dunque al prossimo appello dovranno depositare le conclusioni della superperizia. Il colpo di scena se così lo vogliamo definire arriva dal legale di Antonio De Vico che ha rinunciato al rito ordinario per affrontare quello abbreviato così come avevano scelto già gli altri 29 imputati. Si tornerà ora in aula il 29 aprile alle ore 10. Venerdì protesta nazionale degli infermieri. In Abruzzo gli operatori sanitari si sono radunati davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità. Manca il personale siamo allo stremo delle forze. Fanno sapere dal NURSID. Vediamo. la politica ci ha detto che non si sarebbe dimenticata di noi ci hanno chiamato eroi ci hanno ringraziato noi ci siamo messi a disposizione anche in forma gratuita durante l'esecuzione degli screening per le scuole per la popolazione e oggi chiediamo il riconoscimento che ci spetta e che ci avevano promesso. Si sono dati appuntamento a Pescara di fronte all'assessorato regionale alla sanità circa 80 operatori sanitari questa mattina hanno aderito alla manifestazione che oggi si è svolta in tutte le regioni d'Italia. Il governo nazionale ha già stanziato nella legge di bilancio 335 milioni destinati alle indennità professionali per l'emergenza sanitaria ma i fondi devono ancora essere erogati anche la regione Abruzzo però deve fare la sua parte dicono i manifestanti. Speriamo che anche la regione riconosca quello che è lo sforzo degli infermieri degli os delle ostetriche e di tutti gli operatori sanitari all'interno delle strutture spedaliere e che finalmente si possa in qualche modo investire con dei fondi quindi concretamente sul personale sulle indennità che questo personale ha diritto ad avere. Una delegazione degli operatori sanitari in protesta è stata ricevuta dall'assessore Nicoletta Verì in Abruzzo c'è carenza di personale e questo non può non ripercuotersi sulla qualità dell'assistenza ai pazienti lo aveva ammesso anche il presidente dell'aggiunta regionale Marsilio parlando della situazione covid a margine della cabina di regia di un paio di settimane fa possiamo acquistare macchinari e mettere a disposizione più posti letto aveva dichiarato il governatore a mancare però sono i professionisti la nostra lotta è anche e soprattutto per migliorare le cure che noi possiamo dare ai cittadini pensiamo semplicemente che gli ultimi studi dicono che per assistere sei pazienti c'è bisogno di un infermiere questo rapporto nelle asle terramane e abruzzesi quindi anche di Pescara Chieti e L'Aquila non è rispettato ci sono dei reparti dove la proporzione infermiere paziente è 1 a 14 1 a 16 ed è invivibile ovviamente il personale è allo stremo delle forze le persone che ovviamente hanno bisogno delle strutture sanitarie hanno diritto e pretendono una qualità di assistenza elevata ma per poterlo fare c'è bisogno di personale Bisogna stabilizzare il personale precario e riorganizzare il sistema sanitario regionale questa è la posizione della UIL e margine del tavolo con la regione Abruzzo a cui hanno partecipato anche la CGL e la CISL vediamo dalla regione Abruzzo sulla sanità solo buoni propositi il commento del segretario della UIL Abruzzo Lombardo a margine del tavolo chiesto dai sindacati tra le questioni rimaste risolte la stabilizzazione del personale sanitario precario medici e infermieri sono pochi estremati lo avevano gridato anche gli operatori scesi in piazza ieri col nursing e questo è il tallone d'achille del sistema ospedaliero abruzzese anche nella lotta contro il covid noi avevamo posto una serie di problematiche che ci sono secondo noi rispetto alla sanità pubblica regionale in primis la stabilizzazione dei precari che è uno dei temi centrali uomini e donne che hanno dato un contributo notevole durante il periodo di questa pandemia e che ancora oggi non vedono hanno riconosciuto questo sforzo enorme che hanno portato il loro contributo straordinario nei nostri nosocomi regionali nella nostra attività sanitaria di prevenzione di questa maledetta pandemia noi crediamo che sia arrivato il momento che il riconoscimento di una stabilizzazione dei precari nelle Asl nelle quattro Asl della nostra regione diventi prioritario purtroppo nell'incontro al di là dei buoni propositi non siamo andati insoddisfatti della riorganizzazione della rete ospedaliera i sindacati chiedono di potenziare la medicina territoriale tenendo conto delle esigenze delle diverse aree d'Abruzzo noi continuiamo a sostenere che una riorganizzazione del nostro sistema sanitario regionale diventa fondamentale per consentire di dare una sanità territoriale in grado di rispondere innanzitutto alle esigenze della cittadinanza e della popolazione abruzzese in una regione orograficamente particolare che deve essere tenuta presente perché è fondamentale per poter dare quelle risposte soprattutto a quella popolazione che vive in condizioni geografiche particolari penso a tutto l'Abruzzo interno e che deve avere parimenti agli altri abruzzesi una sanità degna di questo nome i sindacati poi hanno chiesto un tavolo anche a proposito dell'automotive che si è svolto con l'assessore regionale allo sviluppo economico da Mario bisogna sedersi a discutere anche di infrastrutture e mercato del lavoro tuonano le organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori adesso cambiamo argomento parliamo di sport sono tante le assenze per il Pescara in vista dalla gara di questo pomeriggio a Viterbo alle ore 14 e 30 fuori causa i tre tesserati alle prese col covid che sono Frascatore Derisio e Cancellotti gli infortunati Drudi e Chiarella e i calciatori coinvolti nelle dinamiche di mercato De Marchi e Bocic che sono in odore di cessione entro domani settimana non facile in casa Pescara ai fastidi inevitabili legati al mercato si è aggiunto il covid che ha condizionato il lavoro della squadra tre giocatori in vista della gara di domani saranno assenti Derisio Frascatore e Cancellotti a loro si aggiungono gli infortunati Drudi e Chiarella e due calciatori interessati da dinamiche di mercato che potranno portare a una loro cessione nelle ultime ore della sessione di gennaio Bocic e De Marchi il resoconto di questi giorni del tecnico Auteri allenamenti insieme con la palla non ne abbiamo potuti fare tanti però negli ultimi giorni fortunatamente tutto si è indirizzato per il verso giusto vabbè sapete di tre giocatori positivi insomma siamo stati un po' in isolamento però abbiamo comunque lavorato ugualmente sono queste normative che sono un po' strane perché comunque sono tutti giocatori senza sintomi con terza dose di vaccino e vabbè Ilandi è un giocatore pronto perché ha giocato fino a dieci giorni fa perché è un giocatore che si è allenato è chiaro che lo dobbiamo inserire nel nostro contesto di gioco davanti a Sorrentino dovrebbe rientrare Ianes dopo la scolifica e che sembra favorito sull'ultimo arrivato Gerardi Ingrosso e Veroli completeranno il trio di difesa Zappella e Rasi gli esterni in mezzo torna Pompetti con Diambo che appare favorito su Memuschai in avanti la conferma del trio Rauti Ferrari e Dursi nonostante le assenze niente alibi per Auteri che dà grande importanza al match con la Viterbese è una gara fondamentale una delle poche volte che parlo così perché può essere una grande svolta per la stagione per fare questo dovremmo giocare una partita strepitosa dal punto di vista dei ritmi dell'intensità e della lucidità mentale intanto i giocatori che ha preso sono tutti giocatori allenati e di ottimo livello certamente alcuni giocheranno tanti li conosco adesso le Viterbese è una squadra consistente secondo me lo era anche prima poi probabilmente non sempre le prestazioni sono state all'altezza ma domani è una partita importante perché affrontiamo un avversario che è destinato a non rimanere in fondo alla classifica Tanti gli innesti di mercato per i laziali l'ultimo il difensore Polito dal Monterosi dove è andato il portiere Daga ceduto nelle ultime ore l'ex Biancazzurro Foglia al Pontedera nel 4-3-3 di Punzi terzo tecnico stagionale dopo Dalcanto e Raffaele ci sarà il debutto di Semenzato al posto dello squalificato Pavlev Megelaitis potrebbe soffiare il posto in mediana a 1 tra Adopo e Iuliano davanti spazio a Bianchimano Volpicelli e Alberico probabile assente Murilo partire dalla panchina un altro nuovo Polidori Noi dobbiamo essere bravi a non concedere come stiamo facendo nelle ultime settimane ed essere bravi a concretizzare di più quello che produciamo perché solo così avremo la forza di fare uno scattino in avanti anche noi veniamo da 4 risultati utili consecutivi 7 nelle ultime 8 e per una squadra che è ancora anche se in condivisione ultima e classifica sono dei numeri un po' particolari però dobbiamo essere bravi a vincere a provare a fare la partita dei punti perché questo ci darebbe la spinta in avanti per affrontare poi questo mese di febbraio che sarà così intenso Tornando a Pescara con le uscite di Marilungo e Rizzo e Galano che flerta con il Bari ecco le aspettative di Auteri per le ultime ore Prendere per prendere no all'interno di questo gruppo ci sono dei giocatori forti consapevoli e che possono pure avere un rendimento migliore rispetto a quello del giro nato andata quindi non forzo nulla ma qualcosa arriverà sicuramente inoltre questo pomeriggio in campo anche il Teramo sempre alle 14.30 a Dimola seconda trasferta consecutive per il Diavolo che adesso ha a disposizione anche l'ultimo arrivato Cisco vediamo tra campionato e mercato ricomincia il cammino del Teramo con un'altra trasferta stavolta si va a Dimola dopo il successo contro la Vispesaro è arrivato Cisco l'ultimo acquisto in ordine di tempo in casa Biancorossa Teramo che come ammette lo stesso Guidi adesso anche per merito della società ha cambiato un po' le direttive rispetto all'inizio della stagione è diversa perché sono cambiate gli interpreti e chiaramente sono cambiate anche le direttive societarie perché abbiamo affrontato il girone d'andata dove noi dovevamo raggiungere oltre risultati sul campo ma anche l'obiettivo del minutaggio ed è chiaro che le scelte erano fatte in maniera differente C'è ancora a proposito di mercato la questione Mungo da risolvere per il resto la formazione dovrebbe essere quasi confermata quella che ha battuto la vis sabato scorso Perucchini tra i pali dubbio in difesa tra i due centrali uno tra Kodromac e Pinto potrebbe non essere il confermato sugli esterni vanno Mordini a sinistra a Ziosmanovic a destra in mezzo ovviamente Arrigoni con De Grazia e poi davanti il Tridente Malotti e Bernardotto ci saranno sicuramente da vedere chi giocherà sul lato sinistro dell'attacco bianco-rosso Mi aspetto di fare una prestazione importante perché è iniziato il girone di ritorno sappiamo dell'importanza di ogni singola gara le partite sono sempre meno e quindi è chiaro che ogni pallone va giocato con grande mentalità con grande importanza perché può essere un pallone decisivo per racimolare dei punti e farci raggiungere i nostri obiettivi quindi mi auguro e spero per come ho visto anche la squadra in settimana continuare a fare delle prestazioni buone i molese avversario ostico diverso dalla vis di sette giorni fa ci si aspetta una gara in cui la formazione di Fontana terrà alto il pressing la pressione sulla prima costruzione del termo e proprio per questo Guidi richiede attenzione ai suoi mi aspetta una partita che può avere sopravvento la squadra che riuscirà a pressare meglio che riuscirà a coprire la palla meglio soprattutto che riuscirà a vincere la costruzione contro la prima pressione avversaria penso che può essere la squadra può avere la meglio nella partita la squadra che costruisce meglio ultimo pensiero è proprio per l'ultimo arrivato Cisco che va a rimpolpare l'attacco del Teramo Guidi lo conosce molto bene è arrivato oggi ha fatto appena una rifinitura Andrea è un ragazzo che io conosco molto bene perché l'avevo seguito quando avevo la nazionale under 20 lui all'epoca era a Padova quindi è un ragazzo che conosco molto bene e poi vediamo insomma ripeto mancano due giorni alla fine del mercato e questo per oggi non deve essere la nostra attenzione non deve ricadere sul mercato ma su quella che è una sfida estremamente importante questa era l'ultima notizia per questa edizione grazie di averci seguito buon proseguimento a l'ultima notizia a l'ultima notizia un'ultima notizia